...incontri istituzionali naturalmente a partire dall'incontro con il Presidente della Repubblica che ha visto oggi a pranzo e sono molto lievi i ricordi e il Messico questo sta facendo. E credo quindi che da questo punto di vista la visita del Presidente si concretizza in un progetto sulla geotermia, ma che in questo... Grazie. A quien le agradezco la hospitalità che ha dispensato il servidor in questa prima visita oficiale. Quiero, antes di comprare i accordi che abbiamo fatto, i commenti che abbiamo fatto e, soprattutto, il interesse mostrato per il Presidente del Consiglio di Ministri, di realmente lavorare in favore, soprattutto valiente, audaz e transformatore che sta facendo in Italia. Al riconoscere che per poter realmente, per poter acelerare il ritmo di sviluppo di sviluppo, che ha fatto la decisione con valentia e audazia di llevar a cabo esas reformas transformadori. Il supporto che il governo e l'Italia, l'Italia e l'Italia, l'Italia e l'Unione Europea per modere entre Italia e il Mexico e entre italiani e mexicani. Felicidades. Francia, l'Europa che di fatto blocca Schengen, aveva parlato di un piano B di fronte ad una mancata... Nei limiti, naturalmente, delle valutazioni interne che sono molto importanti. Grazie mille. A te amo, ciao a tutti. Grazie a tutti.